andiamo a finire questa sfida epica che si sommette una quaresima ma non sape il gioco va lentissimo faccio prima a levare wifi mia volevano va via volevano fa finista sfida epica vediamo due vittorie o una sconfitta se faccia una sconfitta sto fuori non ci avrò mai queste carte non ce l'avrò mai quelle carte valentissima non ce l'ha un po spavoso si vabbè non ci sto cambiando non ci sto non ci sto cambiando grazie a cazzo grazie niente l'abbiamo perse tutte siamo arrivati qui non siamo scarsi quindi in conseguenza andiamo a privà problemi di linea vediamo se troviamo qualcosa di carico ma il maghetto ci serviva un maghetto ci ha dato ovviamente abbiamo perso che vuoi che vuoi vincere e fa bene così ah ci sta il baule del clan ci facciamo una partitella va visto perché ho perso c'è un problema c'è un problema c'è un problema di linea quanto pare che vado malissimo c'è un problema di linea e e Grazie per la visione! Ah, sprecata! Friccia sprecata proprio! Provo sempre il doppio attacco ma a volte non è molto spiegace! Ehm, chissà se quello mi colpisce, boh! Eh sì, vedi? Mi colpisce proprio a me! Acce, sì! Ehm, mi sa che vuoi spare? L'ha sparato! Non ti voglio tenermi tutto, voglio vedere che succede! Eh, bravo, bravo! Voglio vedere che sto in vento! Ehm, che vuoi? Ehm, che vuoi? C'è? E' un'altra. E' un'altra. oh no oh no com'è andato a vincere come andato a vincere il bauletto era giusto per dare due corone così tanto per dare due corone e penso che per oggi crescerà il tutto apposto